Ma due cose velocemente, il primo tema è vero, è quello della sicurezza, adesso diciamocela tutta, a furia di avere una quantità fuori controllo di immigrazione clandestina inevitabilmente abbiamo dei furti in più. Poi ci si mettono anche gli italiani, però è un dato oggettivo, Milano, Milano città, si è passati da 80 mila furti prima di Pisapia a 105 mila, quindi 25 mila furti in appartamento in più. Cioè li addebitano tutti alla signa cosciente a Pisapia? No, io faccio una politica di Pisapia, diciamo che sempre almeno intanto sono 25 mila in più solo a Milano, poi certo se fai anche delle politiche di deterrenza inferiori è logico che l'effetto è questo. Poi sul parmigiano, al di là del fatto che ragione lì non ci dobbiamo sprangare in casa, il problema vero generale è che noi abbiamo perso un'occasione storica e qui lo dico all'amico Pittella, l'unica cosa che doveva fare il governo italiano con Renzi quando avevamo la presidenza europea era di portare avanti la battaglia sul Medin, è l'unica cosa che non abbiamo fatto.